Ancora una domenica bellissima per quanto vi riguarda, una domenica in cui sarete anche entusiasti di quello che vi sta accadendo, riceverete delle notizie piacevoli, delle comunicazioni importanti. Insomma voi in questo momento avete già ripreso in mano la vostra vita, i vostri progetti sembrano dare anche dei risultati incoraggianti, però nel corso della serata la luna entra nel segno dello scorpione e dobbiamo parlare di qualche piccola tensione che ci può essere nel rapporto di coppia. Chiudiamo con il segno dei pesci.